Il Consiglio di Stato ha detto no, respingendo la sospensiva e di fatto non bloccando il progetto. Continua infatti la diatriba sulla nuova caserma della Polizia Locale di Arezzo, che dovrebbe trasferirsi in via Filzi nel quartiere di Saione, nello stabile dell'ex asilo. Una cherel che va avanti dal giugno 2018, quando furono aperte le buste per le proposte immobiliari, a chiedere la sospensiva era stata infatti la ditta che non si era giudicata l'appalto. Dunque ad oggi non c'è nessuna sospensione per la procedura, anche se ancora l'ultima parola non è stata scritta. Resta infatti la pronuncia finale del Tar attesa per il 4 dicembre. In caso di esito favorevole potranno partire le pratiche per avviare i lavori, che vedranno completare il progetto dell'amministrazione comunale, ossia quello di riportare la sede della Polizia Locale in città. Sulla procedura nei mesi scorsi si era anche inserita l'azione delle opposizioni in Consiglio Comunale, che avevano presentato un'istanza alla Corte dei Conti.